Rubavano superalcolici negli esercizi commerciali di Modica per poi rivenderli nel Siracusano ad un prezzo inferiore. Diversi i colpi messi a segno, sei furti aggravati ed una rapina, tre le persone finite in manette, tutte di Avola. Fabrizio Finocchiaro, 26 anni, Adolfo Terranova, 40, Antonio Argentino, 39. Del gruppo faceva parte anche una donna di 39 anni, nata in Germania ma residente ad Avola, sottoposta all'obbligo di dimora. Le indagini del commissariato di polizia di Modica hanno preso il via nell'agosto scorso, quando diversi commercianti dediti alla vendita di superalcolici hanno denunciato di aver subito furti in serie. In un caso si trattava di rapina, perché i ladri avevano minacciato una persona che si era accorta della sottrazione. Uno del gruppo, vistosi avvicinato da un responsabile alla vendita, che gli chiedeva di fargli visionare il suo zaino, reagiva urlando e minacciando pesantemente il titolare di ritorsioni qualora avesse agito nei suoi confronti. So chi sei, ti vengo a prendere di notte, ti stacco la testa, aveva urlato. La merce trafugata veniva poi piazzata a prezzi inferiori in locali della provincia retusea. I proprietari modicani, in particolare quello di un supermercato ubicato in pieno centro città ed un altro nella periferia lungo la statale di collegamento con Siracusa, denunciavano l'ammanco di alcolici e superalcolici prelevati dagli scaffali ad opera di ignoti in orari di apertura delle attività. Gli ammanchi risultavano sempre gli stessi, alcolici di marche pregiate contenuti in bottiglia. Ricostruita la dinamica di questi furti, l'acquisizione delle immagini dai sistemi di videosorveglianza si è rivelata preziosa. L'abbigliamento utilizzato nelle circostanze, la targa dei veicoli impiegati e le differenti e-station utilizzate dalla donna per camuffarsi proprio dinanzi alle telecamere e non essere riconosciuta dalle cassiere hanno fornito elementi decisivi. Il gruppo metteva a segno i colpi, avvalendosi anche di un ragazzo di 14 anni, identificato e non punibile. Per gli altri tre invece la procura ha chiesto e il GIP ha concesso l'emissione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Alla donna è stato applicato l'obbligo di dimora e di presentazione quotidiana nel commissariato di polizia del luogo di residenza.